In questo video andremo a simulare tutta la carriera del fratello di Bellingham Job Bellingham, con un solo obiettivo, farlo diventare più forte del fratello maggiore che tutti voi conoscete Allora ragazzi, eccoci qua con un nuovissimo video dove andiamo a simulare tutta la carriera di un giocatore Quest'oggi tocca a Job Bellingham, il più votato nel sondaggio che vi ho fatto qua nella Tab Community 17 anni, 66 di overall, ma tanto, 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 tanto potenziale Guardatelo qua, gioca nel Sunderland, gioca in serie B inglese, quindi manco troppo male Ed è titolare, raga, non l'ho messo io, eh, questa è la squadra base che ci dà il gioco con le rose aggiornate Titolare in mezzo al campo, 66 di overall, è il più scarso della squadra, a parte l'attaccante Ma, raga, è anche uno di quelli con un potenziale incredibile L'obiettivo sarà, in questa simulazione della sua carriera dove andremo a fare, come al solito, 10 anni Farlo diventare un campione, farlo andare via dal Sunderland, farlo finire in una super squadra Magari farlo giocare col suo fratellino, con Jude Bellingham E magari farlo diventare anche più forte, con qualche pallone d'oro È il più giovane della squadra, raga, e se andiamo qua, ci dice Mostra un ottimo potenziale E quindi, ragazzi, iniziamo 10 anni di carriera, la carriera di Job Bellingham VAMONOS! Ah, tra l'altro ve lo dico subito Mi raccomando, commentate qua sotto con quale altro giocatore devo farvi la carriera settimana prossima Quello più scritto, raga, sarà quello scelto da me Poi ho ancora un male alla spalla incredibile Non so se avete visto su Insta, raga, mi sono sfasciato tutto quanto la YouTuber League Ma sto provando comunque a portarvi questo video È il primo video che registro da quando mi sono fatto male Quindi, se non mi muovo troppo come al mio solito È perché ho male, ma... Non so che non capirete Ahia, che male che ho, raga Mamma mia, la spalla Vabbè, dettagli Allora, Job Bellingham Cosa dobbiamo fare? Allora, io adesso vado a fare, come al solito Tutti gli obiettivi Soprattutto nelle prime stagioni Finché saremo in Serie B Perché sarà molto, molto dura Quindi, ingaggia un giocatore Compra quello lì, compra quello là, bla 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 E poi vado a mettere un po' a posto la squadra Sempre per valorizzare il meglio Bellingham Perché se non potenzio la squadra, raga Poi i giocatori invecchiano Scendono di overle, bla 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 Bisogna valorizzare il meglio Bellingham Obiettivo di questa prima stagione Buu, arrivare ovviamente in Premier League Se ci riusciamo Ma soprattutto far crescere Bellingham E farlo giocare tanto Quindi magari 10 gol, 10 assist Sarà dura Non lo so, vediamo, raga Andiamo, ci vediamo dopo Quando ho finito tutto quanto Ok, raga, ci siamo completati tutti gli obiettivi Quelli che potevo fare Sono andato un po' migliorare la squadra In realtà ho fatto un solo acquisto Che è Tell, lì davanti Perché mi serviva una punta Perché per il resto questa squadra fa paura, raga Se volete fare una carriera usate il Sunderland Cioè, guardate l'età 22 anni 17 anni 21 anni 21 anni 20 anni 20 anni 20 anni Cioè, ragazzi, è una cosa incredibile 23 anni e 21 anni Col portiere pure lui, giovane 23 anni Tutti con un ottimo potenziale Quindi non sono neanche andato a fare acquisti Perché li avevamo già tutti in rota Non sono andato a vendere quei giocatori Che non aveva senso tenere Magari quelli un po' più vecchietti Ho paura a vedere come può diventare questa squadra Ho paura a vedere come Bellingham In questa squadra di giovani Può diventare il leader tecnico Gli ho rinnovato il contratto Gli ho messo un ruolo cruciale Perché aveva ruolo tipo turnover E quindi Siamo sicuri che giocherà In questa squadra Obiettivo Far bene con Bellingham al primo anno E quindi Andiamo fino al primo febbraio Tra l'altro vediamo cosa ci dà come obiettivo La dirigenza In termini di campionato Termina metà classifica Vabbè, vabbè Ci dicono che in due anni Dobbiamo lottare per la promozione Andiamo al primo febbraio E vediamo che succede Quanto cresce Il nostro Job Bellingham Vamo Bene bene Siamo al primo febbraio È il momento di tirare un po' le somme Di questi primi sei mesi Della carriera Di Job Bellingham Tredicesimo posto in campionato Beh, questi giovani Mi sa che devono crescere ancora un po' Ehm Vabbè Vediamo come sta andando Bellingham Già vedo che ha salito i due di overall La cosa mi piace Inizia a crescere il nostro campioncino Ordina per gol Allora Non le ha giocate tutte 12 presenze Un gol e un assist Ci può stare Comunque è il giocatore più giovane della rosa Ci sta che quindi faccia un po' di turnover Voglio vedere con chi ha fatto turnover Però Perché in caso poi li cacciamo a fine stagione Allora Han giocato Questo Matete Ha giocato Nail Loro due sono i titolari Lui era il terzo titolare E chi è che ha giocato? Ah Questo Bradley Deck Ehm Vabbè Vediamo cosa fare con questo Bradley Deck Era uno di quelli che avevo messo in vendita Magari è arrivata qualche offerta e lo vendiamo Però È un buon inizio È un buon inizio Peccato per il Sunderland Che non è che sia andando molto bene Ma il nostro attaccante comprato sta segnando Eh Eh È salito di due di overall Vabbè 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 È solo l'inizio È solo l'inizio Raga Andiamo fino a fine stagione E vediamo come chiude la sua prima stagione Job Bellingham Ovviamente con la maglia del suo Sunderland Sognando la Premier League Eccoci qua Al primo giugno La barra è ancora verde Vediamo come siamo arrivati in classifica Oh Alla fine Settimo posto Ci siamo ripresi Peccato Peccato per due punti Non siamo in playoff Il Leicester Mamma mia 103 punti Vabbè Sarà per l'anno prossimo In FA Cup dove siamo andati Perché noi avevamo anche le FA Cup Giustamente Sì più o meno avevamo le FA Cup Eh Turno 1 no Turno 2 No Forse siamo apparsi al turno Turno 3 Ah Appena abbiamo giocato le FA Cup Siamo usciti contro il Preston Ok Perché siamo in Serie B Quindi partiamo dal turno 3 Mentre quelle di Premier Partono addirittura dal turno 4 Dal turno 2 quelle di Serie C Dal turno 1 quelle di Serie D Tipo La Rogatown Che ha perso Vabbè Dettagli La Carabao Cup forse ce l'avevamo eh Però non penso che abbiamo fatto bene In Carabao Cup No Anche qua male male Neanche Ok Sì 3 a 0 col Southampton Vabbè Vabbè Dobbiamo ancora crescere Dobbiamo ancora crescere Vediamo a proposito di crescita Il nostro Bellingham Com'è andata Ordina per statistiche Ordina per gol Vabbè 21 presenze Quindi ha giocato più o meno Come la prima parte di campionato Ha preso un altro più uno di overall 2 gol e 2 assist E' un centrocampista Ci sta che non segni tantissimo Tra l'altro guardateli nei ruoli Mi dice che lui può fare anche il COC O la TT Quindi magari Poi nel corso della carriera Potremmo anche cambiargli il ruolo Vediamo Per ora resta CC Fatemi un po' vedere Allora A TT ci mette 66 settimane Mentre COC Ce ne mette due Potrebbe essere anche un'idea Cambiarlo a trequartista Facciamogli fare un altro anno Da centrocampista Vediamo come va Se no poi lo spalziamo Come il fratellino Che nasce come centrocampista Poi fratellino Fratellone Che nasce come centrocampista Però poi si è adattato Da trequartista A Real Madrid Sta giocando addirittura Falso 9 Quindi vediamo Per ora resta ancora CC Vediamo chi ha segnato tanto Ha segnato tanto Clark Ha preso più 5 Tra l'altro raga Non sto facendo a nessuno Il bug Guardate ve lo faccio vedere Aspettate Su tutti quanti Nessuno ha il bug Quindi voglio fare le cose Fatte bene Che vi siete lamentati Nei commenti degli scorsi video Vado a cambiare il piano di crescita Di Bellingham Adesso vado a svincolare Tutti i giocatori Che sono scontenti Vado a rinnovare i contratti Di quelli che credono nel progetto Per alzare un po' la barra E poi ci vediamo Per la seconda stagione Dai 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 69 di overall Ci sta Eccoci qua dentro La seconda stagione Tra l'altro ragazzi Ma quanto è cresciuta la squadra Cioè Dei giovani incredibili Mamma mia laga Mamma mia che squadra Bellingham è salito di uno Durante la preparazione estiva Una squadra che Mi viene quasi strano Fare acquisti Perché è davvero troppo forte Vado comunque a fare gli obiettivi Vedo se c'è qualcosa da comprare E ci vediamo poi Per la seconda stagione Che si prospetta molto bella Quest'anno La Serie B La stravinciamo E Bellingham Inizia a essere decisivo Fidatevi di me Bene bene Ci siamo Ho fatto anche qua Tutti gli obiettivi Ho fatto un solo acquisto Perché comunque la squadra Non voglio snaturarla Raga è fortissima E ha una crescita incredibile Ho preso Kossonu Come difensore centrale Primo anno avevo preso Tel Due dalla Germania E quindi ci siamo Seconda stagione Un solo obiettivo Far giocare Bellingham Come titolare E salire Possibilmente in Premier League Tra l'altro ho venduto Quell'altro lì Che gli rubava il posto ogni tanto Quindi in teoria Bellingham dovrebbe essere titolarissimo Forse per il suo ultimo anno Da centrocampista Perché poi Potremmo farlo salire a C.O.C. Come il fratello Andiamo fino al primo febbraio Ho tante aspettative Ve lo dico raga Ho tante tante aspettative E infatti siamo ancora dentro Alle fake up Turno 4 Molto bene Serie B Siamo al secondo posto Secondo me abbiamo una squadra Per stravincerla Come ha fatto l'anno scorso Il Leicester Ma va bene così Carabao non ci siamo Ma non ci interessa la Carabao E vabbè Champions League ancora meno Ci interessa però vedere Quanto è cresciuto Job Bellingham Quindi statistica Ordina per gol Eccolo qua Più uno di overall Era già salito di uno Durante l'estate Tre gole e quattro assist Sì forse il suo loro raga È il trequartista Però vediamo Intanto sto Clark raga Ma guardate Non gli sto facendo il bug Ma è un qualcosa di folle Gli sto solo mettendo Il piano di crescita più veloce Ma prendetelo in tutte le carriere 84 ha fatto più 5 Ma se gli mettevo il bug Quanto era? Già 90? 24 anni 18 gol 6 assist Cioè ci siamo trovati in squadra Un giocatore che vale 50 milioni E anche lui Cioè ma chi è? Un centrocampista Più 4 Ma sta squadra ha dei prospetti incredibili Fateci le carriere col Sunderland Raga è una cosa incredibile Non ho mai visto una squadra Con così tanti giovani Cioè forse la Juve Che quest'anno è piena di giovani Ma la Juve è una squadra Che gioca in Serie A È diverso Guardate che crescita abbiamo Cioè paradossalmente Quello che sta crescendo meno È Bellingham Ma crescerà Crescerà ragazzi Andiamo fino a fine anno E vediamo poi Che fare con Bellingham Dai 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 Premier League Premier League Premier League Primo giugno 2025 Io spero che siamo saliti Mi sta di sì Perché è tutto verde Secondo posto Vabbè Vabbè Basta arrivare nei primi due Per andare direttamente in Premier League Quindi L'anno prossimo Bellingham affronterà per la sua Prima volta in carriera Un campionato di prima fascia La Premier League Una Serie A Mamma mia Tra l'altro Ha solo più sei sul Preston Ok FA Cup No Quando siamo usciti? Eh mi sta subito dopo Turno 5 contro il Fulham Siamo passati al turno 4 Contro il Brighton Vabbè Comunque una squadra di Premier Carabao invece Ha perso il Fulham E noi dove siamo arrivati? Turno 4 Che mi sta che No Abbiamo iniziato al turno 3 E poi siamo arrivati al turno 4 Abbiamo battuto l'Everton addirittura Vabbè Manco male Vediamo se il nostro Bellingham È salito almeno a 73 Qualcosa del genere Jude Bellingham Anzi Joe Bellingham 72 4 gol e 8 assist Però Sta iniziando a macinare Ma È il momento Di fare un cambiamento Perché Da centrocampista Non sei proprio Nella tua posizione naturale Quindi C o C Però dovrai migliorare molto nel tiro Perché hai 55 di tiro Devi migliorare molto Devi migliorare molto Ma C'è tempo C'è tempo Fatemi vedere un po' Clark più 6 Non so cosa dire Tell più 3 Neil più 6 23 anni 81 Abbiamo una squadra Sì raga Non ha senso Chi è lui? Più 5 pure Abdullah Ba Ma che squadra è raga? Ma che cosa È qua più 5 Raga Ma vi rendete conto che abbiamo sta squadra? Ma cosa vuol dire? Ma sono delle crescite senza senso Ma perché? Ma Spiegatemelo raga Non ha senso sta cosa Sono delle crescite senza senso Più 6 Più 6 Più 5 Più 4 Più 3 Più 5 Più 3 Più 4 Più 4 Ma che roba è? Ma che roba è? Più 5 Pure lui Il portiere Vabbè Andiamo dentro la terza stagione Cambio modulo Perché abbiamo bisogno del trequartista Bababia Follia Intanto Bellingham Col cambio ruolo da CC Ha preso più uno di overall Quindi me la collo Me la collo E c'è anche un piano di crescita Che cresce molto Speriamo che aumenti il tiro Però perché deve segnare Deve diventare il nostro bomber Siamo dentro la terza stagione Bisogna fare qualcosa Intanto ci danno un budget mercato Che non ha alcun senso 102 milioni Ma io voglio restare al Sunderland tutto il tempo Raga Ma follia sta cosa Follia Andiamo a cambiare formazione Dobbiamo fare Invece che questa qua Dobbiamo fare il 4-4-1-1 Secondo me Col C o C però Questa Perfetta Perfetta Così non sdaturiamo tutto quanto Dobbiamo solo prendere un centrocampista Perché lui è un CDC E mi sa che ci mette troppo a diventare CC Quanti anni ha? 23 anni Vabbè tanto Facciamo il solito acquisto annuale Perché la squadra non vuole andare a cambiarla troppo Mamma mia Clark 86 Bellingham è qua È pronto E quindi Niente raga Vado a fare obiettivi Acquisti E poi Prima stagione in Premier per Joe Bellingham Ancora il Sunderland per ora Poi vediamo Secondo me non è ancora pronto per il passo di qualità In una top squadra Però vediamo quanto crescerà quest'anno da trequartista Bene 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 Obiettivi della terza stagione Terminati Ragazzi Questa qua è la formazione Ho fatto un solo acquisto Anche questa volta Sempre dal campionato tedesco Ho preso Gravenberge La squadra Non so cosa dirvi raga Non so cosa dirvi Bellingham è diventato CC 73 di overall Andiamo al primo febbraio Siamo in Premier League Incrociamo le dita La società ci dice Arriva a metà campionato E noi vogliamo arrivare in Europa League invece Così Per scrivere la storia Per far debuttare anche in Europa Il fratellino di Bellingham Vamo Eccoci qua Primo febbraio Abbiamo subito La FA Cup contro il Bournemouth Ma a noi non interessa A noi interessa vedere come sta andando Ho paura Ho un po' di paura Perché il primo anno in Premier Una squadra con tanti giovani Allora Premier League Termina a metà classifica E noi effettivamente siamo a metà classifica E vabbè ci sta Ci sta È una squadra comunque un po' Sanno tanti giovani Come abbiamo fatto fatica il primo anno in Serie B Stiamo facendo fatica anche il primo anno in Premier League Ma Vediamo un po' Mamma mia Bellingham è salito di 2 Lo vedo Clark 88 Clark 88 Ma sta squadra deve vincere la Premier Allora Tell più 2 14 gol Ormai è un bomber Gravenberge Più 2 anche lui 5 gol Bellingham 5 gol Terzo migliore marcatore della squadra 23 anni Ragazzi 75 di overall Sta diventando un fenomeno Piano 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 Poi abbiamo Clark Che vabbè Che dire Continua a crescere Sta segnando un po' meno Forse il salto di categoria l'ha patito Più 3 pure per nil Più 1 Più 2 Più 2 Più 2 Più 2 Vabbè ma sto video è su Bellingham Non è sugli altri giocatori della squadra Però raga Cioè crescono troppo Non ha senso sta cosa Vabbè andiamo fino a fine stagione A sto punto Puntiamo l'Europa League Ma la vedo dura Quanti punti ci sono Dall'Europa League Premier League Vediamo un po' Europa League Sarebbe quinto posto Meno 9 Non è neanche impossibile Contando che il primo anno Abbiamo fatto poi una seconda parte Stagione incredibile Vediamo Io punto ai 10 gol Del fratellino di Bellingham Vediamo Intanto raga In FA Cup abbiamo vinto Oh magari vinciamo pure l'FA Cup E ci andiamo così in Europa League Chi lo sa Ecco abbiamo l'Arsenal Mi sa che il nostro sogno FA Cup Finisce qua Vediamo 3 2 1 No 3 a 2 Vabbè niente Per la prima volta raga La barra non è messa bene Allora vediamoci insieme Quest'ultimo mese Allora Vittoria col Manchester Pareggio col Tottenham Pareggio col Fulham Ci può stare Facciamo un po' di vittorie Dai per crederci Bene Contro il Brighton Che avevamo già incontrato in passato Bene 4 a 3 col Crystal Palace Vinciamo l'ultima con l'Arsenal Che magari magari vale per l'Europa League Ok Calma Calma Chiudiamo bene Chiudiamo con tre vittorie Calma 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 Haaland Miglior marcatore Non ci interessa Classifica Grazie Grazie Quinto posto Siamo in Europa League Col Sunderland Non ci credo Non ci credo Grazie a queste ultime tre vittorie raga Perché guardate in quanti punti 63 62 62 59 Follia E fake up Siamo usciti proprio contro l'Arsenal Se non sbaglio Al turno 5 dovrebbe essere Neanche troppo lontano dalla finale Turno 5 sarebbero gli ottavi di finale Vabbè In finale c'è il City Carabao Cup Non ce l'avevamo Ma non importa Non importa Vediamo un po' va Vediamo un po' la crescita di Bellingham E a sto punto anche di tutta la squadra Bellingham 6 gol È cresciuto ancora di 1 3 assist 42 presenze Bene da trequartista Molto meglio Però gli manca ancora quel Tocco di qualità Però 20 anni 76 Inizia valere tanto No 9 milioni Vabbè Calma 20 anni 76 Sta crescendo Sta crescendo Clark più 2 Tell più 3 Gravenberge più 2 Vabbè raga Una crescita folle Nei più 4 Sì Sì c'è follia Follia Cioè sì nel senso follia Guardate il valore di sta squadra Cioè ma che senso ha Clark valeva 100.000 euro all'inizio raga Nei pure Vabbè Ballard pure La squadra senza senso Senza senso Ma Ballard tra l'altro è titolare almeno Sì è titolare Questa è la squadra raga Io Io affronterei il quarto anno Perché abbiamo Premier League e Europa League Mamma mia Sta squadra in realtà può essere molto competitiva Però vediamo Sicuramente ci andrà qualche acquisto Vediamo quanto baggi ci danno Anche perché la panchina Sono tutti giovani della primavera Fatti per gli obiettivi Prese per gli obiettivi Bellingham comunque è il più scarso della squadra Incredibilmente Oh Bellingham Datti una sveglia Che abbiamo bisogno di te Abbiamo bisogno di Farti diventare un fenomeno Quindi cresci per bene Dai Andiamo Quarto anno Quarto anno che tra l'altro Ve lo dico Potrebbe essere l'ultimo Al Sunderland Perché secondo me poi Potrebbe arrivare 80 di over E potrebbe iniziare a voler cambiare aria Magari in serie A Chi lo sa Vediamo Eccoci qua Dentro la stagione numero 4 Iniziano a arrivare offerte folli Quanto abbiamo di budget? Fatemi un po' vedere 165 milioni Per potenziare questa squadra Dove praticamente sono tutti Nazionale Bellingham Ancora non viene chiamato Dall'Inghilterra Ma arriverà anche il suo momento Vado a fare un po' di cose raga Vediamo come ci danno Come obiettivi Vediamo come ci Vabbè Lasciate perdere Non riesco a parlare Raggiungi la fase a Gironi Perfetto Qualificati per l'Europa League Raggiungi l'ottaviglia di finale Soft 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 Vado a fare due cose Vado a fare anche magari Uno o due acquisti Per potenziare la squadra E ci siamo Quarta stagione Quella della consacrazione Di Bellingham Eccoci qua Obiettivi completati Ho fatto praticamente Tutto quello che dovevo fare Raga Guardate Quello che potevo fare È tutto verde Ho potenziato la rosa Questa volta Ho preso due giocatori Per la prima volta Ho preso due terzini Nuno Mendes E Arnau Martinez Perché erano i reparti Un po' più carenti L'anno prossimo magari Cambiamo anche Bah Anche se 23 anni 81 Mi viene a dire Bah Io lo terrei titolare Bellingham è qua Tra poco crescerà a 78 Sta migliorando anche nel tiro Come vedete piano piano 5 mostabilità 3 piede debole Quest'anno Deve fare 10 gol Perché ne ha fatti 2 il primo anno 4 il secondo 6 il terzo Raga Quest'anno ne fa 10 Per forza E quest'anno abbiamo pure l'Europa League Quante partite Non so se ce la faremo con questa rosa L'obiettivo Ve lo dico In un modo o nell'altro È arrivare in Champions League Quindi Primo febbraio Vamo Eccoci qua raga Primo febbraio La barra è messa bene Vediamo Ai 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 Però settimo posto in campionato Però siamo a meno 3 dalla Champions Quindi ci può stare Europa League Oh no Oh sì Oh sì Pensavo non fossimo passati Primo posto in Europa League Gaza 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 FA Cup Siamo ancora dentro Ripetizione turno 4 Carabao Cup Non ci siamo Ma non importa Vediamo Bellingham Che sta combinando Vediamo se è l'anno della sua consacrazione O se se ne deve andare Più uno Ok 5 gol Un assist Sta giocando Però gli altri stanno facendo decisamente meglio Clark 91 Va Questo video deve essere su Clark Non su Bellingham Vediamo Vediamo raga È ancora molto giovane Però iniziano ad arrivare le prime offerte Qua cresce ancora molto rapidamente Ma guardate un po' Vedi offerte Ragazzi Ci vuole il Newcastle In prestito un anno Per ora io lo lascio ancora qua E poi vediamo che farà a fine stagione Andiamo fino alla fine di questa stagione folle E prendiamoci la Champions League Questa squadra deve prendersi la Champions League Raga Cioè Guardate che squadra Ma non ha senso Non ha senso L'Europa League ho deciso che ve la commento io raga Non ci vediamo a fine stagione Vediamo un po' 2 a 0 col Siviglia Vamo Vamo Bellingham vuole alzare già un trofeo Il suo primo trofeo Vabbè Siamo al quarto anno 4 a 0 in totale 2 a 0 all'andata 2 a 0 al ritorno E passiamo pure in FA Cup Attenzione Attenzione Ci prendiamo tutto Tutto Se andiamo in Champions raga Rimane un altro anno a Sunderland Ultimo anno Però dobbiamo andare in Champions in qualche modo Contro chi siamo? Il tuente mi sa Vabbè easy dai 2 a 2 Easy più o meno Calma Abbiamo anche una finale già forse 6 a 4 Vamo Abbiamo una finale di cosa? 2 a 1 Forse abbiamo vinto qualcosa E siamo contro Atletico Madrid Aiuto Aiuto Ah 1 a 0 per loro Mi sa che siamo fuori in semifinale No siamo passati Follia Follia Ferma Ferma tutto Ferma tutto Finale Di Europa League Secondo posto in campionato Ma cosa sta succedendo? Ma che stagione sta facendo sto Sunderland? E FA Cup? Siamo in finale Europa League? Siamo in finale Ragazzi Possiamo anche vincere la Premier in teoria Possiamo anche vincere la Premier forse? No Meno 4 Due giornate dalla fine Non lo so Andiamo a giocarci le due finali Cioè a simularcele ma in un altro modo Mamma mia Mamma mia Intanto vinciamo anche col Tottenham E E E Perdiamo l'ultima Mamma mia Campionato non l'abbiamo vinto Mi sa Cioè no è impossibile averlo vinto Però Follia 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 Bellingham Bellingham Vediamo un po' Siamo arrivati E no a meno troppo Le ha vinte tutte e due Interessa Perché ci interessa vincere anche questa qua Contro l'Arsenal che ci ha rubato la Premier Ci può stare Vediamo 3 2 1 Ti prego Doppietta 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 Nail etel E Fake up Europa League Per Bellingham Al quarto anno E ora siamo in Champions Io volevo andarmene da questa squadra Ma come possiamo andare a una squadra che gioca la Champions Che è arrivata al secondo posto in campionato e ha vinto i suoi primi trofei L'anno prossimo raga Si vince la Premier e siamo in Champions E poi Dopo il quinto anno cambiamo squadra Facciamo così Facciamo così Che roba raga Che roba Vediamo quanti gol ha fatto Bellingham Ha fatto 10 gol come avevamo detto Oh Ne ha fatti 9 Non ci credo 9 gol e 4 assist Continua però a fare sempre più gol di stagione in stagione E adesso all'ultimo anno qua al Sunderland Perché poi ha deciso che se ne andrà L'ha già dichiarato Ha detto ai tifosi in conferenza stampa che se ne andrà Perché vuole cambiare aria Vuole cambiare squadra Intanto Vabbè Ma che vi devo dire raga di questi giocatori Più 4 Più 3 Più 3 Più 2 Più 1 Più 1 Più 3 Non so cosa dirvi Ma siamo partiti da una squadra che aveva il migliore Che aveva 72 Tipo Cioè adesso 160 milioni 140 104 103 Non ha senso Te l'ho pagato 15 milioni raga 15 milioni Clark ce l'avevo già in squadra Ma cosa vuol dire Ma cosa vuol dire Contratti come si è ammessi Scadono un po' tutti Ma tanto il prossimo e l'ultimo anno Vado ad aggiustare due cose E ci vediamo con la quinta stagione Che poi non ho mai fatto 5 stagioni di un giocatore nella stessa squadra Però qua è successo un qualcosa di incredibile Cioè Non solo lui sta crescendo Ma tutta la squadra sta crescendo in maniera incredibile Quindi Sì 5 stagioni qui Anche perché è molto giovane E poi ce ne andiamo Ce ne andiamo Magari raga Magari nella parte 2 Essendo che è molto giovane Vi faccio 6 stagioni Invece che 5 Ne faccio 11 Vediamo Vediamo Intanto Andiamo a concludere questa parte 1 Con la quinta stagione Eccoci qua Stagione numero 5 Quella coppa lì Che sta al Sunderland La vogliamo noi E abbiamo 204 milioni Per prenderci questa coppa Il nostro Bellingham è lì 78 Forse non è la squadra giusta Il Sunderland per lui Perché non è che sta crescendo molto Però In caso raga Questa è l'ultima stagione Vedremo poi nelle altre squadre che combinerà Volevo vedere qualcosa Mi sono dimenticato Mi sono dimenticato clamorosamente Vabbè 32 settimane Manco male E io direi allora che andiamo a fare tutto quanto Raga Andiamo a fare tutto quanto Ah volevo vedere il valore di Bellingham Ecco si L'anno scorso era 9 milioni Adesso 18 Calma 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 Vado a fare le solite cose Potenzio la squadra Obiettivi Ci vediamo dopo Per questa folle Ultima stagione col Sunderland Di Bellingham Bene raga Ci siamo Fatto tutti gli obiettivi Questa volta sono andato a comprare Saliba E Kudus Erano i due reparti un po' più deboli Tra l'altro abbiamo subito due finali Perché abbiamo la Community Shield Che sarebbe la Supercoppa E poi anche la Supercoppa europea Visto che abbiamo vinto L'FA Cup E l'Europa League Quindi Vediamo La prima ancora contro l'Ars La vediamo se li ribattiamo Bellingham è sempre 78 8 3 a 2 Tel Tel Kudus Va bene Va bene Va bene Bellingham Però altro trofeo E a questo punto Vi faccio vedere anche l'altra Supercoppa Visto che le finali ve le faccio sempre vedere Contro il Manchester City Molto dura Molto dura Loro hanno vinto la Champions Facciamogli vedere che siamo più forti Facciamoglielo vedere No Segna Hum Bastava un gol di Bellingham Ma No Vabbè Vabbè Ci sta Ci sta Ci sta Ragazzi Vediamo il primo febbraio Vado a fare i piani di crescita Adop Eccoci qua Primo febbraio Avevamo anche la Champions Tra l'altro Non abbiamo guardato il girone Ma siamo passati Perché siamo contro il Paris Saint Germain E quindi Secondo posto in campionato Siamo ancora lì a nottare Per vincerla Premier Siamo campioni del Ah no L'avevamo già visto Cosa sto dicendo Vabbè Del Community Shield Sì avete ragione Qua turno 4 Abbiamo pareggiato con l'Ipswich Town Vabbè C'è la ripetizione Bellissimo questo formato Carabao Cup Non ci siamo C'è il West Bromwich Anzi c'è il Brighton Ogni anno è lì Champions League Allora 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 Abbiamo beccato il Paris Saint Germain Mentre il Barcellona Becca il City Meno male che siamo passati Al secondo posto Che già abbiamo perso col City Ma vediamo il nostro Bellingham È salito ancora di 1 Ordina per gol Oh 7 gol però E un assist In metà campionato Ci può stare Il suo record per ora È di 9 gol in totale Quindi ogni anno sta migliorando Però questo sarà il suo ultimo anno qui Clark 92 Tel 91 Gravenberge 91 Cioè Gravenberge ok Ma Nail 89 E Clark 92 Non hanno nessun senso Ma non importa Non importa Io direi raga Ci vediamo fino a fine stagione Con un solo obiettivo Andare più avanti possibile in Champions E vincere il campionato La Premier Ragazzi scusate l'interruzione Mi dovete perdonare Se intanto ho una felpa addosso E ho i capelli tagliati Ma prima dovevo andare dal parrucchiere Quindi ho dovuto interrompere la registrazione L'ho ripresa adesso Siamo in semifinale di Champions raga Abbiamo vinto 4 a 3 col Barcellona L'abbiamo ribaltata E 3 a 2 col Paris Saint Germain Siamo contro L'Atletico Madrid Dall'altra parte c'è Napoli Juve Ok Ok Andiamo fino a fine stagione insieme va Fino alla fine dell'ultima stagione Di Bellingham Con la maglia del Sunderland E poi Chi lo sa Vediamo In casa con l'Atletico 2 a 2 Ci scegliamo tutto là Al Vanda Metropolitano No I rigori Volevo chiudere con la Champions League Non ci credo Va bene Va bene lo stesso Il Sunderland che arriva in semifinale di Champions È un qualcosa di assolutamente folle Vediamo se abbiamo vinto la Premier League almeno va Classifica non ci credo dai Bellingham saluta così Saluta il Sunderland senza aver vinto la Champions E arrivando al secondo posto in Premier Community Shield abbiamo visto che l'avevamo vinto FA Cup questa volta Non l'abbiamo vinta Siamo usciti in semifinale anche qui Mamma mia E invece in Carabao Cup Niente Ha vinto il Manchester City Che delusione Cioè alla fine quest'anno abbiamo vinto solamente la Supercoppa inglese Il Community Shield Vediamo se almeno Bellingham saluta bene il suo Sunderland Abbrosa Statistiche Ordina per gol Ok Allora Non bene in termini di crescita perché ha fatto solo più uno Però 17 gol e 3 assist Nettamente la sua miglior stagione Tra l'altro ha fatto 17 gol in Premier League Oh Manco male Manco male Vediamo la crescita di questi ragazzi che adesso saluteremo per sempre Tel 92 Clark 93 Gravenberge 91 Vabbè Bellingham È stato un piacere Vediamo dove andrai nella sesta stagione Aggiungi A lista Trasferimenti Ora in terreno dovrebbe chiudersi qua la prima parte del video raga Ma voglio vedere se arrivano offerte Vi voglio lasciare un po' così con la suspense di qualche offerta Se dovesse arrivare Vediamo Se non arriva niente entro il 30 giugno invece Si fa direttamente l'anno prossimo Arriva le prime offerte Roma e Manchester United Ragazzi Mi sa che accetto una di queste due Mi sa che accetto una di queste due Lo scoprirete nella seconda parte che uscirà domani Si partirà dalla sesta stagione Si farà fino all'undicesima Roma o Manchester United Ci vediamo raga Ci vediamo A domani Ciao ciao